Una notizia importante riguarda il personale universitario precario all'Università di Foggia. È stata trovata un'intesa per stabilizzarlo che avverrà ufficialmente nelle prossime settimane. Soddisfazione è stata espressa dal rettore dell'Ateneo Dauno, Lomuzio, nel quadro di una profonda rivoluzione partita sin dal suo insediamento nell'Ateneo Dauno. Ho incontrato il personale precario e le organizzazioni sindacali durante la campagna elettorale che hanno segnalato all'attenzione come prioritaria questa problematica che si trascinava da pochi anni. A poche settimane dall'insediamento mio e della nuova governance condivido questa inimportante notizia della stabilizzazione di otto collaboratori amministrativi. Lomuzio mette in evidenza che la precarietà nel mondo del lavoro rappresenta un problema diffuso e che non riguarda solo la realtà accademica e che incide negativamente sui lavoratori e loro famiglie, costretti ad appuntare i tanti ostacoli che rendono il futuro pieno di incognite e ben certezze.